Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Bazzar della droga in casa, i carabinieri arrestano 39enne fanese Formaggio al sapore di muffa e troppo couscous Progetto Fano e Udc vogliono vederci chiaro nella refezione scolastica fanese Via San Francesco a Pesaro, commercianti, abitanti, ostaggi del cantiere fermo Biciclette a noleggio, da fiore all'occhiello, a chi le ha viste, sparite una decina di biciclette Stasera dopo il Tg, prima puntata di Pesce Azzurro Show con i comici del San Costanzo Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia La cronaca in apertura, i carabinieri ancora una volta sulle tracce di trafficanti e spacciatori di droga Questa volta arrestato un 39enne fanese che aveva in casa un vero e proprio bazzar Vediamo i particolari nel servizio Arrestato dai carabinieri di Fano un 39enne per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Era da poco passata l'ora di pranzo oggi, quando i carabinieri del nucleo radiomobile fermano una vecchia Fiat Punto, lungo la statale tra Marotta e Senigallia Da subito, appena aperto il finestrino, i militari avvertono un forte odore di marijuana provenire dall'interno E così, sebbene l'uomo fosse incensurato, i militari hanno perquisito la vettura rinvenendo 5 grammi di eroina e un etto di marijuana Perquisita poi anche l'abitazione dove l'uomo viveva con i genitori, ignari della doppia vita del figlio Dove sono stati rinvenuti due etti e mezzo di hashish Un etto di cocaina, tre flaconi di metadone, bilancini di precisione e materiali da confezionamento Un laboratorio dello spaccio nella camera da letto del ragazzo Che al commento di un militare, ti manca solo l'ecstasy Ha risposto, tranquilli, troverete pure quella E infatti, da un nascondiglio, sono saltate fuori pasticche di droga sintetica Il 39enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Pesaro In attesa della convalida dell'arresto E nella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha partecipato ad un incontro con gli studenti Delle medie inferiori di Urbino sul tema della legalità Il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Urbino, Simone Pineschi Presso la scuola medio-inferiore Pascoli Alla presenza di oltre 170 studenti e dei loro insegnanti Ha affrontato tematiche di grande attualità Quali il burril, il bullismo e il cyberbullismo I ragazzi presenti hanno mostrato grande interesse per gli argomenti trattati Intervenendo con domande e spunti di riflessione L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto che si svilupperà fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017 Finalizzato a promuovere una cultura della legalità tra i giovani E a prevenire gravi fenomeni quali appunto quelli del bullismo e del cyberbullismo Fornendo una corretta e completa informazione circa le loro cause e le loro conseguenze Anche di carattere penale e civile e di possibili rimedi Ed ora andiamo in via San Francesco a Pesaro Dove un cantiere che sembra essere fermo Desta un po' di preoccupazione tra commercianti e abitanti È andato per noi a vedere di che cosa si tratta Fabrizio Naticchi Le segnalazioni di alcuni cittadini e negozianti ci hanno portato a Pesaro stamattina In via San Francesco, uno dei principali accessi al centro storico cittadino Dove è presente da circa un mese un cantiere che percorre tutta la via fino a Piazza del Popolo I lavori di riqualifica della via iniziati a marzo sembrano fermi da qualche giorno Suscitando la curiosità dei commercianti in primo luogo Che pur comprendendo molto bene le ragioni e le necessità degli interventi Non vedono l'ora che le loro vetrine tornino ad essere ammirate da pesaresi e non Così cercando una risposta nell'attesa della fine dei lavori prevista per giugno Abbiamo cercato di fare il punto con l'assessore ai lavori pubblici del comune I commercianti ora sono un po' preoccupati perché qualche giorno che la ditta non lavora Noi la incontreremo domani mattina alle 10 Nelle settimane precedenti hanno lavorato anche a sabato pomeriggio Quindi vogliamo pensare che siccome una ditta che non è del territorio, di fuori Si è presa qualche giorno in più per le vacanze di Pasqua Comunque domani alle 10 abbiamo il punto con l'azienda che ha vinto la gara Questa qui è una gara di evidenza pubblica dove non è che si invitano 20 ditte, 30 ditte Le scegliamo noi, sono ditte che presentano la loro manifestazione a partecipare al bando di gara I lavori comunque per noi hanno avuto un inizio e dovranno avere un termine Entro il quale poi scatteranno le sanzioni, il termine per fine lavori è fissato per il 13 giugno Quindi ci auguriamo che il tempo che hanno perso adesso lo guadagneranno da qui alle prossime settimane Ed ora occupiamoci di mobilità green, mobilità dolce, quella in bicicletta Che può essere fatta anche con bici a noleggio Sono una quarantina, quelle presenti a Fano, sono arancioni, sono in sei stalli sparse per tutta la città Ma questa quarantina di biciclette versa in pessime condizioni Sono lasciate lì a marcire da diverso tempo e poi ne mancano ben nove all'appello Vediamo i particolari nel servizio Sporche, malfunzionanti, arrugginite, danneggiate ed abbandonate a loro stesse quelle rimaste Ed altre svanite nel nulla Stiamo parlando delle biciclette del bike sharing che occupano in sei stalli predisposti alcune postazioni a Fano Per un'amministrazione che vuole fare della mobilità dolce il suo fiore all'occhiello non è un bel vedere Un patrimonio di tutti impiantato con soldi pubblici e lasciato lì a marcire e reso inutilizzabile previa iniezione antitetanica All'appello ne mancano ben nove dagli stalli Che fine hanno fatto queste biciclette? Chi le ha in consegna? Perché non sono state rimesse al loro posto? Nessuno poi le ha mai viste girare per la città E gli uffici comunali dovrebbero conoscere l'identità di chi le ha prese Forse meno tre dagli stalli del porto, meno due dalla Marina dei Cesari, meno uno da quello del Foro Boario Ma la palma d'oro del degrado dell'incuria spetta allo stallo della stazione Lì ne mancano ben tre e delle cinque rimaste due sono assolutamente inservibili Una bella comodità per chi arriva a Fano in treno Prendendo soldi da un progetto con fondi europei insieme alla città di Pesaro Per ben 80.000 euro, cose che diremmo buttati via in pratica Perché le biciclette sono inutilizzate, sono quasi tutte rotte Molte non ci sono più, quindi non si sa che fine abbiano fatta Queste postazioni sono rivolte ai cittadini e ai turisti Per i turisti è molto difficile farne uso Perché chi arriva alla stazione o chi arriva al Foro Boario a parcheggiare Dove sono state previste le postazioni dovrebbe recarsi presso l'ufficio dell'Urpo del Comune Che ha degli orari prestabiliti e fare questa famosa chiavetta Per poi utilizzare queste biciclette Si potrebbero utilizzare anche quelle di Senigallia, Pesaro Perché il progetto inizialmente era comune a quello delle altre città vicine Però l'utilizzo che ne è stato fatto è scarsissimo Le bici sono inutilizzate, sono tutte rotte Il progetto prevedeva la manutenzione delle stesse cose che non è stata mai fatta Quindi insomma sono in pratica soldi buttati via Ed ora affrontiamo il tema tanto caro a molte persone Quello della riflessione scolastica Perché dopo il cambio del menu a quello estivo Sono fioccate un po' di proteste da parte di tanti genitori Che hanno visto i loro figli tornare a casa quasi digiuno Hanno raccolto queste lalamentele Udc e Progetto Fano Che hanno intenzione di fare un'interrogazione in consiglio comunale Sentiamo il perché Formaggio al sapore di muffa Sugo acido Zuppe poco gradite ai bambini Polpette gommose Questi i report dei genitori Refezione scolastica fanese Per Udc e Progetto Fano Non ci siamo per niente Sarebbe stando ai parametri del test Che nella versione invernale Ci ha messo al quinto posto su 50 scuole Carente E necessita di migliorie Da compensare a casa E per questo Presto i consiglieri di minoranza Presenteranno un'interrogazione in consiglio comunale Quindi questa cosa per i nostri bambini Pensiamo che non sia un'alimentazione del tutto corretta Perché dobbiamo invece guardare E sì Insegnargli Dargli un'educazione alimentare Quindi che possano mangiare di tutto E abituarsi a tutto Ma non possiamo andare a prendere i bambini Nelle scuole affamati O che hanno mangiato solamente pizza e gelato Perché non è assolutamente un'alimentazione corretta C'è da capire il perché E delle tante lamentele recepite dai genitori Dopo il cambio del menù estivo E cosa non va Perché alcuni bambini Tornano a casa a digiuni O dopo aver mangiato solo pane e pasta Quando c'è Se no devono sorbirsi palline di miglio Cuscus due volte alla settimana Insalate di radicchio e mais Niente salumi e formaggi Per due volte Da considerare che le famiglie Stando alle affermazioni dei consiglieri Sostengono il costo della refezione Con la quota che versano Se poi devono integrare a casa Il risultato è che molte famiglie Stanno togliendo i figli dal servizio L'intento Almeno sulla carta dell'ufficio competente È quello di abituare i bambini A mangiare di tutto E questo va bene Ma se ciò si tramuta In uno stravolgimento dei principi Della nostra Tanto amata e apprezzata Dieta mediterranea Imbarba anche alle indicazioni ministeriali Che invitano al rispetto Della tradizione locale Vesta non poche preoccupazioni Quindi devono essere le famiglie Che decidono Se è corretta l'alimentazione Decidere se farli mangiare a scuola Quando ci sono determinati alimenti E non come è successo poi La scorsa settimana Che è stato cambiato il menù Quindi dei bambini sono rimasti Altri sono usciti Perché c'era un menù giornaliero Che non era adatto A quelle che erano le loro esigenze Invece poi è stato cambiato L'ultimo minuto Senza avvisare le famiglie Quindi cercheremo più che altro Di tutelare le famiglie E soprattutto i bambini Cioè su una classe di 20 bambini Se la brutta fresca Sono previste capire Un ordigno della seconda guerra mondiale In pessimo stato di conservazione Ancora potenzialmente attivo È stato rinvenuto nei giorni scorsi Lungo il sentiero sulla parete Del Duce del monte Pietralata All'interno del comune di Ferminiano Il ritrovamento è avvenuto In una zona difficilmente accessibile Il sindaco Emanuele Feduzzi Comunque ha emanato un'ordinanza Per vietare l'accesso all'area interessata E per disporre la rimozione La messa in sicurezza Ed il trasporto dell'ordigno Da parte dei militari competenti Il primo cittadino ha precisato Che non si conosce ancora La data prevista per la sua rimozione Il dossier che l'amministrazione comunale di Pesaro Sottoporrà domani al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio In visita in città è pronto Il sindaco Matteo Ricci Lo ha limato nelle ultime ore Insieme a provincia e regione Comprende, spiega, le opere complementari Di Autostrade per l'Italia I lavori del porto di Pesaro Le rotatorie con priorità Per quella delle siligate sulla statale Inserita anche nel piano di investimenti dell'ANAS Cambiamo argomento La riunione di giunta odierna Si è tenuta nel centro sociale a Ponte Sasso Insomma insieme al sindaco Massimo Seri C'era il sindaco per un giorno Sentiamo com'è andata Sindaco, allora tutte le giornate di un sindaco sono impegnative Quest'oggi c'è stato anche una giunta Importante in un luogo importante per Fano Sì, le giornate di un sindaco sono sempre giornate ricche Anche con imprevisti molto spesso Oggi abbiamo iniziato la giornata con una giunta fatta fuori sede Per la prima volta ho voluto convocare una giunta non nella sede municipale Ma a Ponte Sasso Per due significati Uno perché è giusto che la giunta Anche così simbolicamente esca dal palazzo comunale Perché bisogna essere sempre il più possibile vicino ai cittadini In più l'abbiamo fatto in una struttura che è comunque pubblica Gestita molto bene da un'associazione al centro sociale di Ponte Sasso Un momento costruttivo per tutti Interessante ma soprattutto anche di relazioni Perché non dobbiamo dimenticare che chi fa il sindaco L'amministratore rappresenta i cittadini E deve mantenere sempre un rapporto costante con loro Ecco, una fatica divisa in due Quest'oggi grazie a un'iniziativa di cui lei è stato fortemente promotore Sì, questa iniziativa di sindaco per un giorno È una bella occasione perché si dà la possibilità a un cittadino fanese Di accompagnare il sindaco nell'attività della giornata Oggi il sindaco per un giorno è un giovane studente Questo mi fa piacere Perché significa anche aprirsi E poi i giovani portano sempre l'infa nuova Sono uno stimolo Quindi nell'arco della giornata può suggerirmi anche qualche idea per la città Devo dire che l'ho trovato molto attento E anche competente Anche strada facendo mi portava le sue considerazioni Questo mi fa piacere E poi è bello quando un giovane si interessa della propria città Allora, una giornata a braccetto col sindaco Impressioni a caldo di queste prime ore La vita di un sindaco, la giornata di un sindaco è molto piena E soprattutto che passa da argomenti molto diversi E dal mio punto di vista, insomma, è un'esperienza molto formativa Molto bella, molto interessante E che chiaramente per un giovane Dà la possibilità di vedere come opera il primo cittadino Allora, qualche consiglio gliel'ha dato? Ho provato a esprimermi più sulla questione Porto E Porto con le sue problematiche E anche facendolo passare come punto di forza Grazie a tutti Bene, buon proseguimento di serata con i nostri programmi Occhio alla notizia torna domani sera alle 20.30 Buona serata a tutti voi Grazie a tutti